14 marzo 1944. Si avvicina la primavera e la città di Cassino e sul monte lo scheletro dell'abbazia di Monte Cassino bombardata, sbarrano ancora gli alleati la strada di Roma. Il maresciallo Kessering ha schierato sulla linea Gustav i paracadutisti del generale Heidrich, i terribili diavoli verdi che gli inglesi hanno già conosciuto in Sicilia e a Ortona. La quinta armata americana è pronta a uno scontro sanguinoso. Il generale de Gaulle, capo della Francia libera, passa in rivista le truppe francesi che si avviano alla prima linea. I primi ad accorgersi dell'offensiva imminente sono gli abitanti dei paesi che devono evacuare. Il 15 marzo il comandante del corpo neozelandese, generale Fraser, già responsabile del bombardamento dell'abbazia di Monte Cassino, ora ritiene indispensabile il bombardamento della città di Cassino per poterla conquistare. All'osservatorio di Cervara i generali Alexander, Clark e Fraser assistono al terrificante bombardamento della città. L'attacco aereo finisce a mezzogiorno. In quello stesso momento cominciano le artiglierie. 1300 tonnellate di bombe, 200.000 colpi d'artiglieria cadono in sette ore su Cassino. Le avanguardie neozelandesi giungono alle prime case della città, ma il generale Heidrich ordina il contrattacco anche con carri armati. Come a Stalingrado si combatte strada per strada, casa per casa. Al tramonto la terza battaglia di Cassino è finita. I tedeschi hanno vinto. È il momento di andare a raccogliere i morti e i feriti. I neozelandesi hanno perduto 1600 uomini, i tedeschi molti di più, ma continuano a tenere Cassino e Monte Cassino e a sbarrare agli alleati la strada di Roma, che continueranno a bloccare per altri due mesi. Grazie. 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 Grazie.